buongiorno a tutti oggi voglio presentarvi il nuovissimo guadino da carpa specie plus mx si tratta di un guadino robusto ed affidabile proprio per la pischi in carpogono viene presentato con questo nuovo tipo di impugnatura a questa fascia diciamo antiscivolo e agevola diciamo le operazioni di salpaggio del pesce quando uno ha le mani bagnate e come potete vedere viene presentato con una boccola sull'elemento centrale per avere veramente proprio una potenza molto molto importante anche quando c'è da gestire dei pesci oversize pesci insomma di 10 kg e più e poi dopo c'è la boccola anche sul terzo elemento più sottile che si innesta direttamente sulla sulla fascetta del secondo pezzo e lascia all'interno poi dopo il blocco per poter montare la testa di guadino anche sull'elemento centrale. La lunghezza del guadino è 3,60 m mentre se viene utilizzato con l'elemento centrale è circa 3 metri